nel corso della storia il fenomeno chiamato nel corso della storia prima spiritismo poi medianità e adesso con un termine inglese channeling permette a coscienze disincarnate e incarnate in questo e in altri mondi di comunicare con il piano fisico attraverso un medium un mezzo un tramite uno strumento il fenomeno organizzato quello espresso e osservato metodicamente iniziò alla metà dell'ottocento con le sorelle fox e generò quello che fu poi chiamato spiritismo da quel tempo in poi numerose entità vere e presunte di bassa e di alta evoluzione attraverso mezzi con caratteristiche diverse in ogni parte del mondo portano la loro spiegazione della realtà dando luogo a fenomeni chiamati affettivi fisici di insegnamento o misti i fenomeni affettivi sono prodotti da medium preposti al contatto con i trapassati i fenomeni fisici sono prodotti da medium preposti alle materializzazioni i fenomeni di insegnamento sono prodotti da medium preposti all'erogazione di insegnamenti spirituali i fenomeni misti infine sono prodotti da medium che esprimono l'intera fenomenologia